Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso qui per le 13, punto ristoro con il prefetto Castrese De Rosa che lo attenderà e poi alle 15.30 invece ci sarà l'incontro con il sindaco di Ravenna Michele De Pascale. Lo sappiamo è una giornata fitta di impegni per il presidente della Repubblica, qui molto atteso, sappiamo quanto l'Emilia Romagna sia stata colpita dall'acqua, dall'alluvione e poi anche la città di Ravenna che ha dovuto dirottare un milione e mezzo di metri cubi d'acqua che assediavano la città. Sono stati rotti argini, è stata cambiata anche la direzione del flusso dell'acqua di un canale, quello emiliano-romagnolo, proprio per evitare che Ravenna venisse travolta dall'acqua. Ci sono riusciti, anche se poi le conseguenze, i danni sono stati tantissimi, tanti campi che sono stati allagati proprio per evitare che l'acqua arrivasse fin qui a Ravenna. Quindi davvero anche eroici tutti coloro che hanno anche accettato di far allagare il proprio campo per salvare la città. Quindi lo dicevamo, alle 13 il Presidente della Repubblica sarà qui, l'incontro col Prefetto e poi alle 15.20 con il Sindaco di Ravenna. Ed è tutto, a voi la linea. Grazie. Valeria, verso le 11 in elicottero dovrebbe arrivare in Piazza Saffia Forlì, il Capo dello Stato. Giulia Bondi in diretta. Sì, esatto. Forlì attende l'abbraccio del Presidente Mattarella. Sarà un incontro soprattutto con i volontari, quindi per porre l'accento su coloro che si sono prodigati fin da subito per cercare di lenire i danni di questa alluvione. Lo vedete alle mie spalle. Noi siamo nel quartiere Romiti che è stato uno di quelli più gravemente colpiti, devastati dalla furia delle acque del Montone lo scorso 17 maggio. Si continua a lavorare senza sosta per sgomberare. Abbiamo visto il paesaggio di questi quartieri certo rimanere spettrale perché a quest'ora dovrebbero esserci bambini che vanno a scuola, famiglie che vanno al lavoro. Invece ci sono soltanto questi mezzi pesanti per la pulizia. Pensate che sono stati rimosse 100.000 metri cubi di rifiuti negli ultimi giorni soltanto qui a Forlì. Il Presidente arriverà in centro in Piazza Saffi. Ci saranno anche tanti bambini ad attenderlo. Veramente un grande abbraccio per la città. Ci potrebbero essere altre tappe della visita del Presidente anche tra Cesena e Lugo, prima dell'arrivo a Ravenna e nel pomeriggio a Faenza. Quindi veramente un tour di Sergio Mattarella per stare vicino alle persone colpite da questa terribile alluvione, da questo disastro climatico. Una buona notizia. Con Selice è un altro dei luoghi simbolo. Da ieri è all'asciutto e si lavora per analizzare le acque per capire se ci sono rischi per la salute, anche se i primi esiti delle analisi, secondo Arpa e Emilia Romagna, sono incoraggianti. Per il momento da Forlì vi restituiamo la linea.